Ciao a tutti animaletti del zio vostro e bentornati sul mio canale didattico Diego ti spiego nella sezione della matematica. In questo video continueremo a studiare le disequazioni in valore assoluto di primo grado e con un solo modulo, questa volta nella forma modulo di A con X maggiore o minore di B con X, dove B con X stavolta è pure lui in polinomio, cioè una cosa con la X. Anche in questo caso ti consiglio di rivedere le equazioni in valore assoluto perché poi è la stessa identica roba. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo immediatamente oppure seguimi su Instagram. Vediamo se avviscia qualcosa, va? Cominciamo con questo nuovo video in cui continueremo a studiare le disequazioni in valore assoluto, cioè con il modulo. Nel precedente video abbiamo visto le disequazioni della forma modulo di A con X maggiore o minore di B con X, dove però B con X era un numero, quindi sostanzialmente modulo di A con X maggiore o minore di un certo numero K. In questo video vedremo il caso più generale in cui anche B con X è un'espressione in X, cioè un polinomio in X, esattamente come il termine A con X all'interno del valore assoluto che vi ricordo essere per il momento un termine prettamente di primo grado. Prendiamo quindi l'espressione modulo di 3X meno 4 maggiore o uguale di 2X più 5. Per questa tipologia di esercizi non è assolutamente importante il fatto che ci sia il maggiore uguale, il maggiore, il minore uguale o il minore. Il procedimento, infatti, che utilizzeremo per risolvere questo esercizio è lo stesso indipendentemente dal segno che abbiamo lì. E guardate che il procedimento è praticamente lo stesso che abbiamo utilizzato quando abbiamo risolto le equazioni con il valore assoluto, solo che in questo caso avremo a che fare con delle disequazioni e quindi in generale avremo a che fare con dei sistemi di disequazioni di primo grado. Vediamo quali sono i passi da fare per risolvere questo esercizio. La primissima cosa da fare è andare a studiare il segno della quantità dentro al modulo, esattamente come abbiamo fatto per le equazioni. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la quantità che sta dentro al modulo e la puniamo maggiore o uguale di 0. Da questa disequazione otterremo x maggiore o uguale di 4 terzi. Faremo il nostro grafico dei segni e osserveremo che a destra di 4 terzi devo mantenere i segni così come sono, a sinistra di 4 terzi abbiamo il segno meno, cioè devo cambiare i segni all'interno del mio modulo. La seconda cosa da fare è impostare i sistemi che mi permettono di ottenere la soluzione della mia disequazione. E come si fa? Beh, qui ho due zone, una zona per x minore di 4 terzi e una zona per x maggiore di 4 terzi e quelle saranno proprio le zone in cui dovrò andare a scrivere il mio sistema. Quindi cosa dirò? Dirò per x minore o uguale di 4 terzi, i termini dentro al modulo cambiano di segno, quindi la mia espressione diventa meno 3x più 4 maggiore o uguale di 2x più 5. Analogamente scriverò il secondo sistema per x maggiore di 4 terzi. Vedete che non metto l'uguale sul maggiore perché l'ho messo già sul minore nel primo sistema, quindi 4 terzi non lo posso prendere due volte, lo prendo o da una parte o dall'altra. Per x maggiore di 4 terzi i segni dentro al modulo rimangono così come sono e quindi scriverò 3x meno 4 maggiore o uguale di 2x più 5. A questo punto non devo fare nient'altro che risolverli questi sistemi, quindi non devo fare nient'altro che risolvere la seconda disequazione mantenendo la prima inalterata. Quindi vedete che scriverò x minore o uguale di 4 terzi per quanto riguarda la prima disequazione, la seconda porto le x da una parte, porto i termini noti dall'altra parte. Quando divido per un termine negativo mi ricordo di cambiare il verso della disequazione, questa roba verrà meno 5x maggiore o uguale di 1, da cui ottengo che x è minore o uguale di meno un quinto. E a questo punto vedete che, a differenza che nelle equazioni non ho più x uguale un numero e devo verificare che questo numero stia nell'intervallo minore di 4 terzi, ma ho due disequazioni. Come si risolve un sistema di due disequazioni? Ovviamente con il grafico delle intersezioni, cioè con il grafico in cui vado a mettere i due termini, quindi meno un quinto e 4 terzi, e poi cosa faccio? Prendo le zone in comune tra i due intervalli. Il primo intervallo è minore di meno un quinto va da questa parte, il secondo intervallo è minore di 4 terzi va da questa parte. Quindi vedete che la mia soluzione effettiva alla fine è x minore o uguale di meno un quinto. A questo punto faccio la stessa identica cosa anche per il secondo sistema. Questo sistema mi verrà x maggiore di 4 terzi per quanto riguarda la prima disequazione, per la seconda disequazione mi verrà x maggiore o uguale di 9. E anche qui vado a fare il mio bel grafichino dove vado a mettere 4 terzi e 9. Ovviamente vanno tutte e due dalla stessa parte, quindi vedete che la soluzione che soddisfa entrambe le disequazioni è x maggiore o uguale di 9. Potrei pensare che è finita qua ragazzi e in realtà non è così, perché adesso quello che devo fare è fare l'unione delle soluzioni. Quindi quando ho a che fare con una disequazione con i valori assoluti, non mi basta risolvere questi due sistemi, ma devo fare necessariamente un terzo grafico che mi serve soltanto per effettuare l'unione delle soluzioni. E come si fa questo grafico? È davvero semplicissimo. Si mettono le due soluzioni su un'asse, l'asse delle x, e si scrivono le soluzioni, cioè gli intervalli che ho trovato, sulla stessa linea. In questo caso il problema non si pone. Perché? Perché vedete che il primo intervallo è x minore di meno un quinto, il secondo intervallo è x maggiore di 9. In questo caso non ci sono sovrapposizioni delle soluzioni. Posso dire quindi che la mia soluzione sarà x minore o uguale di meno un quinto oppure x maggiore o uguale di 9. Quindi mi direte, ma a cosa serve questo grafico se tanto alla fine ricopio le soluzioni che ho ottenuto? Beh, questo grafico ci è molto utile quando in realtà ci sono delle sovrapposizioni di soluzioni, cioè ci sono degli intervalli di soluzione che fanno parte sia della prima disequazione che della seconda disequazione. Allora, per evitare di scrivere quella parte due volte, devo utilizzare necessariamente questo grafichetto. Facciamo un esempio velocissimo e vediamo come. Supponiamo, per esempio, di avere a che fare con una disequazione esattamente simile a quella di prima. Abbiamo impostato i sistemi, li abbiamo risolti e abbiamo trovato, per esempio, che la soluzione del sistema 1 è x compreso tra meno 2 e 3. La soluzione del sistema 2, invece, è x maggiore di meno 1. Quello che voglio fare adesso è trovare la soluzione finale, cioè unire questi due intervalli e scrivere comodamente la soluzione come un unico intervallo. Allora, cosa faccio? Vado a mettere questi numeri sull'asse delle x e vado a rappresentare i miei intervalli. La prima soluzione mi darà x compreso tra meno 2 e 3, quindi è tutta la parte che sta in mezzo. La seconda soluzione mi dà x maggiore di meno 1. Mi raccomando, ragazzi, vi ho detto, quando fate l'ultimo grafico, cioè quello dell'unione, non mettete le soluzioni su due linee diverse, non stiamo trovando le intersezioni, lo abbiamo già fatto quando abbiamo risolto i due sistemi, ma stiamo cercando di scrivere le soluzioni in una maniera più comoda. Quindi dobbiamo mettere tutto sulla stessa linea. Ora vedete che quando scrivo x maggiore di meno 1, in realtà la parte tra meno 1 e 3 la ripeto due volte, perché si sovrappone. Allora vedete che la soluzione del mio sistema in realtà diventa tutto quello che viene dopo meno 2. Quindi complessivamente le due soluzioni possono essere scritte convenientemente come un solo intervallo che mi dirà che x deve essere maggiore o uguale di meno 2. E questo qui, ragazzi, è il modo in cui vado a scrivere le soluzioni dei due sistemi in maniera unificata. Ebbene, ragazzi, anche con questa lezione abbiamo concluso perché il metodo è sempre questo. Quindi studiare il segno del modulo, impostare i sistemi e risolverli, e poi unire le soluzioni. Quest'ultima parte è sostanzialmente una parte che non abbiamo visto nelle equazioni con i moduli, che si aggiunge quando abbiamo a che fare con delle disequazioni. Non c'è veramente nient'altro da dire, nel prossimo video vedremo come comportarci con due moduli, all'interno dei quali ci sono ancora espressioni di primo grado. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima!